Nupsis, provincia di Carbonia Iglesias, Sant'Elia di Tattino, uno degli edifici di culto bizantini più antichi e importanti della Sardegna. Oggi molto restaurata, fino a rendere difficile leggere le linee originali architettoniche. Sorge isolata e per arrivarci non esiste una strada degna di questo nome. Ci sono arrivato avventurosamente dopo alcune peripazie causate dal navigatore e anche dallo stato delle mulattiere che è necessario per arrivarci. Ma sono stato ripagato abbondantemente dalla bellezza del luogo e dal silenzio e dalla pace che vi regnano. Tanto che mi piacerebbe molto ritornare in questa piccolissima chiesina, appena 10 metri per 9. Grazie. Grazie.